Buongiorno a tutti, io sono molto felice di essere qui a questo ulteriore appuntamento con gli amici dell'Amici e sono contento di portare gli auguri sinceri di buon compleanno all'associazione, 20 anni, noi non siamo amici di amici da così lungo tempo, il nostro è un rapporto un pochino più recente, ma questo non significa che non siamo molto affezionati e molto legati a voi. Io cercherò di essere molto rapido perché ritengo che vista l'ora voi vorrete sentire parlare di una nutrizione molto diversa da quella di cui parlo io e quindi cerchiamo di fare presto. Certamente, ognuno poi tira l'acqua al suo mulino, le problematiche nutrizionali sono molto importanti nelle malattie infiammatorie croniche intestinali e questo lo dovevate aspettare visto che ve lo dico io. Fino al 75% dei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali in fase attiva presenta segni di malnutrizione ed anche di ipoalbuminemia. La malnutrizione in sostanza rappresenta uno squilibrio fra quello di cui ci sarebbe bisogno per far funzionare in maniera ottimale l'organismo e quello che invece c'è a disposizione o perché una persona non mangia abbastanza o perché quello che mangia non viene sufficientemente assorbito o non viene adeguatamente metabolizzato. E tutte queste cose possono coesistere nella stessa persona affetta da una malattia infiammatoria cronica intestinale. Inoltre sono frequenti anemia, deficit di vitamine e di oligoelementi quindi non soltanto abbiamo problemi che riguardano le calorie, i grassi, le proteine ma anche problemi che possono riguardare quegli altri elementi nutrizionali che si chiamano micronutrienti, vitamine, oligoelementi ecc. La malnutrizione e la perdita di massa magra lo sappiamo da sempre sono molto più frequenti nella malattia di cronica e nella rettocolite ulcerosa e ciò non soltanto in relazione alla localizzazione preferenziale della malattia di cronica nell'intestino assorbente ma anche per la differenza dell'impatto sistemico della malattia di cronica e della rettocolite ulcerosa. Vale a dire che le manifestazioni extraintestinali della rettocolite ulcerosa sono minori, molto minori e l'impatto sistemico, l'infiammatorio sistemico nella malattia di cronica è molto inferiore. Nelle fasi di remissioni la malnutrizione è poco frequente e limitata soltanto ad alcuni pazienti che poi vedremo. Come io non potrò fare altro che confermare quello che ha detto Salvatore Cucchiara, se una malattia infiammatoria cronica si sviluppa in età infantile e soprattutto parliamo della malattia di cronica si può verificare un ritardo di crescita in circa il 40% dei pazienti quindi la malnutrizione in età infantile assume degli aspetti che sono ancora più severi, ancora più importanti che nella popolazione adulta. Quasi il 90% infatti dei bambini riportano deficit e staturo ponderali prima che la diagnosi di malattia infiammatoria cronica venga fatta e qui confermiamo quanto si diceva prima, spesso la diagnosi è tardiva, c'è una disattenzione della medicina di base ma non è questo soltanto l'unico campo in cui uno potrebbe dire ah ma perché non se ne sono accorti. Noi lavoriamo molto con i pazienti oncologici e ci rendiamo conto che anche fra gli oncologici c'è molta disattenzione per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali che sono ritenuti una cosa così naturale da non essere necessariamente vista come la possibile fonte di problemi medici e sanitari. Il 7-30% dei bambini con malattie di cronica rimarranno al di sotto del quinto percentile della curva di crescita e questo dimostra come deficit nutrizionali in età infantile avranno poi delle ripercussioni anche nell'individuo adulto. Le cause di malnutrizione sono varie e diverse, si potrebbe dire che anche nelle malattie infiammatorie croniche intestinali la patogenesi della malnutrizione è multifattoriale, cioè è legata a diverse cause, fra loro anche tutt'affatto diverse. L'anoressia, quindi la riduzione del desiderio di alimentarsi o la persistente sensazione di sazietà che può essere legata sia a fattori squisitamente organici, quindi anche alla stessa risposta infiammatoria le citochine proinfiammatorie di cui abbiamo sentito parlare prima sono strettamente implicate nella disregolazione dei meccanismi ipotalamici che controllano la fame e la sazietà ma spesso c'è un'anoressia anche legata a fattori psicologici negativi relativi alla percezione della malattia e il dolore associato o meno all'assunzione di cibo, le aumentate perdite intestinali di sangue, proteine ed elettroliti la risposta infiammatoria sistemica non va mai sottovalutata perché una infiammazione sistemica come può essere espressa dall'aumento della VES, dall'aumento della proteina C-reattiva è un fattore che gioca in maniera molto negativa per quanto riguarda la utilizzazione dei nutrienti quindi la infiammazione determina alterazioni metaboliche come la resistenza all'insulina la ridotta utilizzazione del glucosio, l'aumento della perdita di massa muscolare in maniera molto significativa l'aumento della spesa energetica a riposo è anche spesso e volentieri connessa all'aumento della risposta infiammatoria sistemica i farmaci e anche non tutt'altro che infrequentemente il timore di evocare sintomi con l'alimentazione e anche idee preconcette su alcuni cibi che condizionano molto le modalità di alimentazione delle persone con malattie infiammatorie croniche intestinali che si autoprescrivono delle diete ad esclusione che spesso poi provocano secondariamente dei problemi nutrizionali l'atteggiamento di attenzione metabolico nutrizionale dei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali è piuttosto esteso e riguarda un po' tutte le fasi della malattia e si propone diversi obiettivi la prevenzione della malnutrizione, la prevenzione o la correzione dei deficit di crescita e la correzione della malnutrizione laddove questa si è instaurata ma anche si propone la induzione della remissione o il mantenimento della remissione e anche la prevenzione delle recidive di malattia e gli ultimi 30 anni hanno visto una grandissima produzione scientifica soprattutto a questo riguardo per stabilire se la nutrizione artificiale o meno potesse avere un'influenza sulla induzione della remissione e il mantenimento della remissione un aspetto un pochino più nuovo che riguarda la nutrizione è la cosiddetta farmaconutrizione che cosa si intende per farmaconutrizione? la farmaconutrizione non è il combinare farmaci e nutrienti ma è l'utilizzare dosi farmacologiche quindi molto elevate di alcuni nutrienti singoli o in combinazione per cercare di modulare alcune risposte biologiche, fisiologiche o patologiche per esempio dare dei grassi particolari come l'olio di pesce che si sa essere anti-infiammatorio per ridurre l'infiammazione di una malattia infiammatoria cronica come quelle di cui stiamo parlando ma nelle malattie infiammatorie croniche intestinali si fa farmaconutrizione anche quando noi somministriamo un supporto nutrizionale come farmaco ad esempio la nutrizione artificiale per indurre la remissione di malattia per molti anni soprattutto nella nutrizione della retto pulite ulcerosa si è parlato di riposo intestinale ne avete sentito parlare anche al professor Cucchiara prima il riposo intestinale si voleva ottenere facendo in modo che nell'intestino non ci fosse più nulla dal punto di vista alimentare e si faceva la nutrizione parenterale quindi tutto quello di cui una persona aveva bisogno veniva dato attraverso una vena questo approccio non ha mai prodotto degli effetti veramente significativi a fronte di una serie di potenziali complicanze della nutrizione fatta per vena il riposo intestinale fatto in quel modo è andato un po' tramontando e quindi quel tipo di nutrizione artificiale è riservato ad alcuni pazienti ad esempio nel periodo perioperatorio quali sono quelli che potrebbero essere chiamati farmaconutrienti e quali possono avere rilevanza nelle malattie infiammatorie croniche intestinali gli acidi grassi della serie omega 3, quelli estratti dall'olio di pesce quindi l'acido eicosapentenoico, l'acido docosaesenoico, i probiotici ed i prebiotici gli acidi grassi cosiddetti a catena corta o short chain fatty acids, la glutamina e anche la nutrizione artificiale standard o specializzata e qui poi chiariremo anche che cosa significa quella parola di dieta di cui si parlava prima dieta polimerica che non è assolutamente una dieta ma sono dei prodotti che vengono chiamati diete ora per capire se la farmaconutrizione possa avere qualche ruolo nel trattamento delle malattie infiammatorie croniche intestinali e particolarmente nella malattia di Crohn possiamo fare ricorso a degli studi che si chiamano meta-analisi le meta-analisi che cosa sono? è un modo per mettere insieme i vari studi che sono stati fatti negli anni più recenti anche da gruppi diversi, anche con numero di pazienti spesso contenuto si mettono tutti insieme quegli studi che hanno delle buone caratteristiche di solidità scientifica che sono comparabili tra di loro e quindi è come se venisse fuori uno studione che è la somma di tutti gli studi clinici fatti in quel settore e per vedere se per esempio gli omega 3 verso il placebo hanno influenza sulla recidiva ad un anno noi andiamo a vedere questa linea che separa i due trattamenti cioè il trattamento attivo, gli omega 3 e per esempio il placebo se questo diamante cade da una parte o dall'altra vorrà dire che il trattamento fa bene in questo caso il diamante ricade dalla parte del trattamento e quindi si potrebbe credere che gli omega 3 favoriscono la prevenzione della recidiva ma poiché la punta del diamante tocca la riga questo dato non è significativo quindi vanno un po' meglio ma non in maniera eclatante se però invece si selezionano soltanto gli studi in cui sono stati usati gli acidi grassi della serie omega 3 microincapsulati e quindi più resistenti all'effetto delle secrezioni gastriche si vede che questo trattamento è efficace rispetto al placebo nel ridurre la frequenza di recidive ad un anno e qui per quanto riguarda tutti gli studi omega 3 verso placebo e qui vediamo che cosa succede per i cosiddetti probiotici vedete che in nessun caso i diamanti cadono al di qua o al di là e questo indica che non ci sono differenze fra il placebo e i dicrobiotici nella percentuale di recidive per quanto riguarda i prebiotici ci sono pochi studi controllati tutto questo deve servire anche un po' a fare chiarezza perché su questi aspetti nutrizionali, farmaco nutrizionali c'è sempre una forte pressione industriale e poiché si tratta di nutrizione e non di farmaci allora spesso ci si sente autorizzati a dire di tutto e di più e di tutto è il contrario di tutto molto spesso questo atteggiamento però induce nelle persone anche delle false aspettative e spinge le persone che sono sempre più vicine alla paramedicina alle medicine alternative anche a impegnare notevoli somme di danaro per utilizzare dei nutrienti che potrebbero avere degli effetti benefici quindi non solo ci interessa dal punto di vista fisiopatologico capire se queste cose funzionano ma ci interessa anche dal punto di vista pratico per evitare che magari le persone si autosomministrino delle diete o prendano dei nutrienti che non hanno alcun beneficio o addirittura potrebbero indurre maleficio per quanto riguarda la rettoglite ulcerosa ci sono pochi studi controllati sui prebiotici però questi sembrerebbero avere degli effetti positivi per quanto riguarda gli acidi grassi a catena corta voi sapete che questi sono composti che si formano nel grosso intestino come sostanza che viene prodotta dai carboidrati non assorbibili quindi dalla fibra alimentare è che a livello del grosso intestino possono avere tutta una serie di effetti positivi anche perché da tempo è noto che questi short chain fatty acids rappresentano un substrato ossidativo cioè sono un carburante che è molto bene utilizzato dalle cellule del colon hanno un ruolo molto importante nella acidificazione del contenuto colico il butirrato che è uno di questi composti stimola la crescita e la differenziazione dell'enterocita e possono anche localmente avere dei potenti effetti anti-infiammatori attraverso la modulazione di alcune vie notoriamente implicate nella risposta infiammatoria qui vedete tutta una serie di evidenze sostanzialmente positive in cui il trattamento anche locale con acidi grassi a catena corta sortisce degli effetti positivi sulla componente infiammatoria soprattutto ovviamente nelle malattie all'interessamento del grosso intestino da molto tempo ormai si parla della glutamina la glutamina è un aminoacido che è presente nella dieta è considerato un aminoacido non essenziale perché il nostro organismo è in grado di sintetizzarlo a partire dall'acido glutammico e anche da altri aminoacidi però si sa che in determinate condizioni questo aminoacido può diventare essenziale cioè ci possono essere situazioni in cui è necessario darne più di quello che normalmente si assume con la dieta oppure in nutrizione artificiale è necessario somministrarlo perché normalmente in nutrizione artificiale la glutamina non si dà dal punto di vista delle malattie infiammatorie croniche la glutamina ha avuto interesse perché è il principale substrato energetico per l'enterocita particolarmente le cellule del piccolo intestino utilizzano la glutamina per produrre energia così come le cellule del cervello utilizzano lo zucchero per produrre energia invece la glutamina è molto ben utilizzata non solo dalla cellula della mucosa intestinale ma anche dal tessuto linfatico associato alla mucosa intestinale che ne è un avido consumatore abbiamo detto che in condizioni di ipercatabolismo cioè quando c'è una aumentata spesa energetica e quando l'organismo comincia ad aggredire la massa magra cioè i muscoli per produrre energia questo aminoacido può diventare essenziale per ridurre l'ipercatabolismo e anche ha delle riportate azioni antiossidanti tuttavia quando poi andiamo a vedere gli studi clinici disponibili non ci sono evidenze chiare che l'aggiunta di questo aminoacido sia alla nutrizione parenterale più, vedete, terapia anti-TNF o a una dieta polimerica di cui adesso parliamo in nutrizione enterale possa avere un effetto benefico allora, prima abbiamo sentito parlare il professor Cucchiara di diete polimeriche di diete alimentari o semi-alimentari quando qui in nutrizione enterale parliamo di diete noi parliamo di prodotti industriali che sono stati messi a punto per realizzare i protocolli di nutrizione artificiale o enterale o per sondino o per PEG oggi si parla tanto di sondini e di PEG c'è una rinnovata attenzione sulla nutrizione artificiale e perché si parla dei casi estremi come quelli della ragazza in stato vegetativo permanente si parla tanto di nutrizione, idratazione, alimentazione, eccetera e si dice anche che questo non è un trattamento medico ma è un trattamento così compassionevole tuttavia abbiamo ben chiare le evidenze che in condizioni come le malattie infiammatorie croniche intestinali sia dell'avuto ma soprattutto del bambino la nutrizione artificiale sia tutt'altro che un trattamento compassionevole ma è una vera e propria terapia medica in grado di condizionare anche l'evoluzione della malattia quindi polimerico o semi-alimentare significa semplicemente se questi prodotti siano composti dai nutrienti in forma intera oppure già idrolizzati per rendere più facile l'assorbimento anche in un intestino che non sia completamente funzionale da questo punto di vista quindi le polimeriche sono fatte di proteine intere derivate dal latte quindi dai caseinati da carboidrati complessi mentre le diete elementari o semi-alimentari hanno carboidrati più corti e proteine che sono sotto forma o di aminoacidi o di peptidi e gli aminoacidi e i peptidi puzzano e le diete semi-alimentari e le diete elementari puzzano più o meno come puzza il mangime per i pesci rossi quindi vi potete immaginare che goduria può essere specializzata ad esempio arricchita in alcuni principi come il TGF beta c'è un ruolo nella fase acuta c'è un ruolo nel mantenimento della nutrizione qui il professor Cucchiara già vi ha accennato alla nutrizione terale fatta con prodotti arricchiti con questo TGF beta sarebbe il transforming growth factor beta che è una citochina normalmente presente nel latte materno si sa promuovere la guarigione mucosa possiede proprietà immunomodulanti principalmente antinfiammatorie è implicato nei meccanismi di tolleranza alimentare e favorisce la proliferazione cellulare ci sono due studi non molto numerosi ma che in effetti indicano che prodotti per nutrizione interale somministrabili per os come diceva Cucchiara in pazienti pediatrici ed adulti sono in grado di migliorare la situazione clinica sia nella popolazione pediatrica e anche nella popolazione adulta in soggetti intolleranti o resistenti alla terapia steroidea o con infliximab remissione in quasi il 50% dei pazienti ma ci sono delle linee guida a cui fare riferimento per essere sicuri che le cose stiano in un certo modo ci sono a disposizione le linee guida della società europea di nutrizione clinica l'ESPEN che ha scritto parecchio in tutte le diverse condizioni cliniche comprese le malattie infiammatorie croniche intestinali nelle linee guida come sapete noi andiamo alla ricerca delle raccomandazioni le raccomandazioni sono determinate affermazioni che vengono fatte a ragione veduta sulla base delle evidenze disponibili in letteratura cioè se su un argomento ci sono tanti studi che dicono la stessa cosa la raccomandazione che noi possiamo fare o di non fare di fare o non fare è più forte la raccomandazione più forte è contrassegnata dalla lettera A la raccomandazione più debole è fatta dalla lettera D e quindi qui vedete che ci sono delle scusate, delle raccomandazioni di tipo A e delle raccomandazioni di tipo B e di tipo C che cosa ci dicono? ci dicono che le indicazioni della nutrizione enterale sono la prevenzione e il trattamento della malnutrizione ma anche il miglioramento della crescita e dello sviluppo nei bambini e negli adolescenti migliorano la qualità di vita c'è indicazione nella fase acuta di terapia nel periodo perioperatorio rimane forte, fissa la indicazione alla nutrizione artificiale quando noi dobbiamo arrivare ad un intervento chirurgico ma le condizioni nutrizionali del paziente non sono buone e quindi è estremamente sconsigliabile che il paziente venga operato se ha perso molto peso o se sono presenti dei segni di malnutrizione oggi nessun chirurgo ama più operare un paziente malnutrito a meno che non si trovi in condizioni di urgenza ma un'operazione in elezione su un paziente malnutrito è un errore clinico molto importante e il chirurgo lo sa quindi spesso l'intervento viene portato in avanti per dare il tempo ad una nutrizione preoperatoria di ripristinare almeno alcuni dei parametri nutrizionali perché se non si fa così il paziente avrà maggiori complicazioni vedete negli adulti l'uso della nutrizione interale come terapia unica per la fase acuta quando il trattamento con i corticosterodi non è possibile è una raccomandazione di tipo A e anche per il mantenimento della remissione ci sono raccomandazioni di tipo B e per quanto riguarda il mantenimento della remissione ci sono anche raccomandazioni di tipo B quindi ci sono delle evidenze tutto sommato piuttosto buone che la nutrizione artificiale fatta con prodotti specifici sia in grado di sortire degli effetti benefici in questo tipo di popolazione però vedete per quanto riguarda la nutrizione cosiddetta specializzata la farmaconutrizione ancora non ci sono sufficienti evidenze per fare dire sì bisogna usarla anzi c'è una raccomandazione tipo A che dice non sono raccomandati perché non ci sono ancora dei chiari benefici quindi a fronte di una serie di studi che possono avere dato risultati positivi le evidenze disponibili in letteratura non sono ritenute secondo le linee guida dell'ESP ancora sufficienti a raccomandarne l'impiego e questo significa a da una parte non creare false aspettative e dall'altra non spendere inutilmente i soldi per delle miscele che sono generalmente più costose di quelle polimeriche cosiddette standard per quanto riguarda la curitio ulcerosa vedete le raccomandazioni sono molto minori il numero in relazione al minore impatto nutrizionale della rettogruite ulcerosa e sono quasi tutte di tipo C qui prima si parlava di effetto delle diete elementari verso le diete non elementari il vantaggio delle elementari che possono essere delle non elementari e che possono essere bevute lo svantaggio delle elementari è che sono più costose e non palatabili vedete che oggi siamo arrivati ad un tale buon livello di tollerabilità delle diete polimeriche che non ci sono differenze fra le diete elementari e le diete polimeriche nella induzione della remissione e vedete un'altra cosa importante che comunque per quanto riguarda la induzione della remissione gli steroidi rimangono certamente superiori alla nutrizione enterale il che non significa che la nutrizione enterale polimerica o no non abbia un ruolo nella induzione della remissione o nel promuovere l'induzione della remissione in quei pazienti che sono cortico resistenti alla terapia seridea o nei quali la terapia sia controindicata quindi è una sconfitta ma non una sconfitta totale anche qui vedete non ci sono differenze fra le polimeriche e le elementari e sotto quale che sia il parametro che viene preso in considerazione quindi oggi la indicazione alle diete semi elementari nella malattia di Crohn si sono piuttosto ristrette quindi in sostanza sicuramente gli aspetti nutrizionali giocano un ruolo importante nel follow up dei pazienti con malattie infiammatorie caroliche intestinali ma in tutte le fasi della malattia la vigilanza nutrizionale sul soggetto adulto è consigliabile e nel soggetto nel bambino e nell'adolescente è assolutamente indispensabile e mandatoria e qui sono perfettamente d'accordo che determinati aspetti di prevenzione e di screening della malnutrizione in tutta la popolazione siano assolutamente necessari e questo è tanto più vero se si consideri che proprio la società europea sta lanciando una campagna che si chiama fighting malnutrition cioè combattere la malnutrizione in tutta l'Europa proprio perché la malnutrizione si annida si indova un po' come gli acari nelle nostre poltrone nei nostri divani la nutrizione artificiale interale si conferma una strategia di primaria importanza sia nella popolazione adulta che in quella pediatrica e naturalmente per quanto riguarda specifici nutrienti anche se il razionale di impiego di determinate sostanze chiamate farmaconutrienti è forte per raggiungere una buona forza di raccomandazione cioè per dire che la popolazione in generale se ne potrà beneficiare certamente oggi abbiamo ancora bisogno di studi clinici raddomizzati cioè fatti su popolazioni ampie ben controllati che possano effettivamente dimostrare il beneficio di un farmaconutriente rispetto invece alla somministrazione di una dieta formula standard non arricchita in queste sostanze vi ringrazio grazie grazie grazie